Ciao e ti do il benvenuto su YumiBio, è arrivato finalmente il momento di aprire il primo dei quattro pacchetti della Corona dell'Avvento YumiBio 2022. La Corona dell'Avvento è una box speciale dedicata al periodo natalizio. Trovi all'interno quattro pacchetti da aprire nelle quattro domeniche che precedono il Natale. Quest'anno abbiamo scelto di inserire un pacchetto extra da aprire insieme la mattina di Natale. Per la nostra Corona dell'Avvento scegliamo di creare una box senza sprechi, quindi praticamente non trovi carta regalo per i pacchetti della Corona dell'Avvento, ma tutti i prodotti sono custoditi all'interno di gadget che potrai poi riutilizzare. Come tutte le box YumiBio, la Corona dell'Avvento viene costruita intorno a un tema. Il tema di quest'anno è la vita in città. Quattro pacchetti della nostra Corona dell'Avvento sono divisi per tematica. C'è il pacchetto dedicato al corpo, il pacchetto dedicato alla cura dei capelli, il pacchetto dedicato alla cura del viso e c'è un pacchetto speciale con coccole volose. Partiamo dal primo pacchetto in questa prima domenica dell'Avvento. Il primo pacchetto è quello che abbiamo dedicato alla cura del corpo e abbiamo inserito dei prodotti specifici per l'inverno, quindi prodotti che vanno bene ovviamente per tutto l'anno, ma che in inverno sono ottimi soprattutto per contrastare secchezza e disidratazione, soprattutto se magari la pelle inizia a diventare più sensibile con i primi freddi. Il primo prodotto che ho scelto per te in questo pacchetto dedicato al corpo è una mousse detergente per il corpo, la mousse Bisubio nella fragranza Fresh. È una mousse con tenso attivi molto delicati, quindi va a detergere la pelle ma senza aggredirla. Infatti puoi utilizzarla anche tutti i giorni, anche se hai la pelle molto sensibile ed è perfetta anche per i più piccoli. Questa mousse contiene degli ingredienti protettivi, degli ingredienti tonificanti e degli ingredienti idratanti, che sono perfetti se ad esempio senti la pelle che tira, la pelle che si secca dopo la doccia. La fragranza che ho scelto è la fragranza Fresh, una fragranza al talco che è perfetta per tutta la famiglia e che ricorda molto i prodotti che utilizzavamo da bambini. Puoi utilizzarla sulla pelle asciutta, sulla pelle bagnata, proprio come utilizzeresti un normale bagnoschiuma, risciacquando bene dopo l'uso. Per completare il momento della detersione abbiamo scelto di abbinare alla mousse detergente per il corpo una spugna di mare. Quella che ho scelto è una spugna di mare naturale, non sbiancata, quindi una spugna perfetta per il corpo, perché è più elastica e più resistente e quindi va ad avere un leggero effetto esfoliante sul corpo e va a riattivare il microcircolo cutaneo. La spugna di mare è perfetta anche sulle pelli sensibili, sulle pelli delicate, perché è comunque molto morbida ed è più e completamente naturale. Quello che ti consiglio è di sciacquare sempre bene la spugna che ho utilizzato per evitare che si possano accumulare detergenti all'interno che possano rovinarla e di lasciarla sempre asciugare molto bene all'area tra l'utilizzo e l'altro. Proprio perché è una spugna che ho inserito in una routine per il corpo, ho scelto un formato grande. Se però preferisci avere una spugna più compatta o se magari preferisci avere due spugne e una da tenere in casa e una da portare ad esempio in palestra con te, ti basta semplicemente tagliare la spugna per avere due spugne più compatte. Completiamo il nostro rituale corpo con un prodotto idratante e nutriente da applicare dopo la doccia. Io ho scelto il siro bifasico corpo BIOS, un siro con acqua termale, con acido ialuronico e con oli pregiati che va ad idratare e nutrire la pelle dopo la doccia. Ho scelto questo prodotto perché è un prodotto che si assorbe con estrema rapidità, quindi è comodo se ad esempio fai la doccia sempre di fretta o se magari sei in palestra e puoi rivestirti subito dopo aver fatto la doccia. E anche assorbendosi in maniera così rapida e in maniera così veloce, riesce comunque ad essere molto idratante e molto nutriente. In più è un prodotto con acqua termale che è perfetto anche su pelli molto sensibili. I prodotti di questo primo pacchetto sono custoditi all'interno del nostro beauty case in pet riciclato. È un beauty case come vedi estremamente capiente che è perfetto per portare sempre con te i tuoi cosmetici. Grazie per aver guardato questo primo video della Corona dell'Avvento del Mi Bio 2022. Ci vediamo domenica prossima!